Ciao a tutti ragazzi e bentornati, oggi torna con i gadget dopo qualche anno probabilmente perché? Perché alla fin dei conti ora come ora i gadget sono l'unica cosa che vi dà un po' di soddisfazione in più non tantissima però comunque qualcosa di carino anche a cifre tutto sommato oneste ora c'è quindi perché non portarveli? E oggi nello specifico andiamo a parlare di gadget sotto i 15 euro potrebbe succedere che una volta che alcuni di questi pezzi possano andare via i prezzi si alzino leggermente questo è come funziona Amazon quindi mi spiace se non dovesse trovare l'offerta dai 15 euro in giù detto questo mi raccomando iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace, attivate la campanellina insomma fate tutte queste belle cosine che servono per aiutare il canale ma non solo, seguiteci anche sui vari social, ve li lasciamo qui sotto in descrizione e partiamo subitissimo, subitissimo con il primo gadget direi che scelgo questo questo però è per gli amanti semplicemente del mondo Apple, nello specifico iPhone perché? Perché questo è un adattatore che costa tutto sommato poco rispetto a quelli standard o meglio quelli originali ed è un adattatore con cavo lightning la possibilità di far passare comunque la corrente nel caso dovessimo utilizzarlo e abbiamo anche due porte USB a cosa servono queste due porte USB? beh a poter collegare qualsiasi altro dispositivo esterno compatibile con il mondo iPhone o iPad ovviamente quindi cosa potete fare? ad esempio potete collegare una fotocamera quando siete in vacanza via cavo in modo tale da trasferire subito le foto che avete sulla fotocamera sul vostro telefono oppure se amate suonare potete utilizzare GarageBand collegando magari un vostro strumento con connessione USB direttamente qui e suonare e registrare le vostre parti esattamente come i microfoni USB per migliorare un po' la qualità dell'audio ho visto anche che funziona con delle luci che non richiedono troppa energia di solito luci LED così da poter magari illuminarvi anche farvi un piccolo setup col vostro telefono un microfono esterno e una luce per registrarvi i vlog anche quando c'è poca luce insomma un gadgettino che sembra nulla di che ma in realtà vi permette di fare tutto quello che volete utilizzando i vostri dispositivi Apple cosa interessante visto che normalmente è complicato interagire con questi dispositivi ma con un accessorio molto semplice lo potrete fare quindi link qui sotto in descrizione e rimanendo sempre nel contesto del viaggio non poteva mancare ovviamente una bella borsa da viaggio per tutte le nostre cose tech questa è la più carina che abbiamo mai trovato su Amazon devo dire la verità un po' per il materiale è fatta veramente bene un po' perché è estremamente capiente sebbene riesca a mantenere delle dimensioni contenute e qui potete fare quello che volete avete degli scompartimenti da poter gestire come volete quindi se avete ad esempio una fotocamera con voi una Sony o qualsiasi anche una piccola mirrorless insomma ci sta praticamente tutto potete mettere il caricatore tutti i cavi in questa parte così da poterli bloccare e fissare e non farli andare in giro per il mondo e una volta fatto questo ovviamente richiudere il tutto con la sua bella zip e il gioco è fatto come vedete è veramente contenuta però vi faccio vedere anche la sua altezza totale devo dire tutto sommato che ci può stare veramente un sacco di roba questi sono i classici gadget che non costano tanto ma quando li avete veramente vi salvano la vita perché comunque sono comodissimi soprattutto in viaggio quando dovete curare anche l'aspetto relativo allo spazio fisico che avete nel vostro trolley perché normalmente se dovete soprattutto prendere un aereo dovete preoccuparvi anche di quello quindi fateci un pensiero e ora spazio allo sponsor che ha permesso questo video ovvero Uki's se siete alla ricerca di Windows 10 Pro quindi di una licenza di Windows 10 Pro oppure di Office o siete alla ricerca di carte regalo per le vostre console preferite Uki's fa sicuramente al caso vostro tra le altre cose se doveste utilizzare il mio codice sconto GH20 durante la fase di acquisto avrete ben 20% di sconto potendovi portare a casa così Windows 10 Pro a 13 euro e poi potete fare aggiornamento gratuito a Windows 11 quindi comodissimo attivare il tutto poi è incredibilmente semplice una volta effettuato l'acquisto sulla dashboard di Uki's troverete il codice di Windows copiatelo andate nel pannello di controllo seguite la procedura di attivazione incollate quel codice e il gioco è fatto vi ricordo nuovamente il mio codice sconto GH20 per il 20% di sconto link qui sotto in descrizione passerei ora a questo no questo è un gadget stupendo che vi voglio far vedere alla fine perché mi ha stupito sotto ogni aspetto soprattutto per 15 euro che è il suo costo quindi rimanete fino alla fine del video perché quello merita veramente tantissimo quindi passerei a questo che sembra una cosina inutile piccolina abbastanza irrilevante invece anche questo è un salva vita soprattutto ora che abbiamo un sacco di accessori ogni accessore ha bisogno del suo cavetto per alimentarsi e di conseguenza sulla nostra scrivania siamo pieni di questi cavi totalmente ingestibili bene questo è un passacavi la differenza rispetto ad altri che ho trovato in questo non è ovviamente la possibilità di attaccarlo alla superficie che volete perché è adesivo quindi potete metterlo dove volete ma il fatto che ogni singolo passacavo è magnetico quindi potete tranquillamente inserire sia cavi piatti che cavi tradizionali con sezione tonda perché poi si può allargare semplicemente con due dita e poi dopo una volta che avete fatto questo tac attaccarlo alla basetta questa cosa è molto comoda perché con quelli che non hanno questa possibilità ma hanno i passacavi fissi a volte è scomodo proprio dover infilare il cavo perché magari abbiamo messo questo oggetto proprio anche bello nascosto in posti scomodi per far sì che nessuno lo veda e di conseguenza poi diventa difficile fare questa operazione in questo modo voi potete tranquillamente estrarre il cavo incastrarlo e poi solo successivamente attaccarlo alla basetta quindi devo dire veramente un prodotto semplice ma incredibilmente comodo e io lo vado a mettere sicuramente là dietro perché ho due o tre cavi che veramente mi danno fastidio e ogni volta che li stacco cadono per terra e quindi devo andare a recuperarli dietro la scrivania una cosa terribile quindi questo è un salvavita passiamo al prossimo questo accessorio in realtà me l'aveva chiesto più Federica perché le poteva servire per il nostro piccolo Chromebook durante l'estate perché non è che scaldi però tutto sommato è comodo averlo più che altro lì a fianco sulla scrivania in una posizione facile da raggiungere anche magari quando si sta lavorando poi sul computer principale e questa è una basetta per portatili portatile sì è un bel gioco di parole però come vedete praticamente è tanto piccola ma si allarga così per poi poter ospitare il vostro computer vi faccio vedere ad esempio come funziona basta quindi posizionarla sul piano andare ad aprire queste piccole alette e inclinarlo come volete voi in modo tale che potrete mettere il vostro computer qui prenderà sicuramente più aria per poterse raffreddare nel miglior modo possibile ma potete anche mettere quindi il vostro computer sul lato magari collegare il vostro computer a un monitor principale e in questo modo potete lavorare su tutti e due gli schermi senza problemi è una soluzione ma si può utilizzare ovviamente per tante tante altre cose la cosa molto carina è il fatto proprio che possa essere portato dove volete quindi richiuso e fatto sparire così che non debba sempre rimanere lì sulla scrivania e potete magari portarvelo anche al lavoro in università insomma avete tutte le possibilità del caso per fare tutto ciò che volete è fatto per la maggior parte in plastica tranne le meccaniche principali che sono in metallo e ha questi bellissimi pad antiscivolo che veramente fanno il loro lavoro credetemi una volta appoggiato lì il computer o un dispositivo qualsiasi esso sia non si muove quindi ottimo lavoro e ottimo prodotto e siamo giunti all'ultimo prodotto che come vi ho detto prima è eccezionale soprattutto perché costa 15 euro quindi assolutamente incredibile ovvero questa basetta per la ricarica wireless per la ricarica di ben tre dispositivi wireless innanzitutto è di un materiale devo dire veramente ben fatto di quei materiali soft touch molto molto carini e vi danno anche quella sensazione di un prodotto fatto bene un'altra cosa che mi ha dato la sensazione di un prodotto veramente ben realizzato è questo ovvero la possibilità di inclinare questa parte per la ricarica del telefono senza nessun blocco particolare ma solo con la sua struttura base che è molto molto resistente come vedete faccio fatica anche a muoverlo e quindi tiene in posizione qualsiasi telefono anche il più pesante l'altra cosa che mi ha impressionato particolarmente è il fatto che qui nella parte quanto è duro ok perfetto ed è meglio che sia così stavo dicendo nella parte laterale c'è questo ovvero la basettina di ricarica per l'apple watch e pensare quindi che questo sia all'interno di un kit da 15 euro non è assolutamente male molto probabilmente non è ufficiale perché so che le licenze apple per quanto riguarda le ricariche di questo tipo insomma sono abbastanza care però non penso che si vadano a creare problemi poi nella ricarica dei vostri dispositivi almeno sono abbastanza convinto che questo non succeda visto che la ricarica wireless è comunque qualcosa di abbastanza standard l'altra parte dove potete ricaricare i vostri oggetti è questa qui ad esempio il case delle vostre airpods tutto questo viene alimentato da un bellissimo cavo usb c quindi siamo veramente sul livello super interessante la ricarica non è veloce come le ricariche super fast esistenti attualmente sul mercato ma comunque vi permette di ricaricare i vostri dispositivi senza problemi io lo vedo molto come un dispositivo tradizionale da mettere sul comodino a fianco al letto in modo tale che quando si va a dormire si mette il telefono si mette l'apple watch si mette qualsiasi altro oggetto di ricarica e il giorno dopo è tutto bello carico senza problemi e possiamo così dormire sonni tranquilli beh ragazzi questi sono i 5 prodotti che volevo farvi vedere oggi sono tutti sotto i 15 euro spero che li troviate ancora a 15 euro perché veramente sono dei prezzi incredibili se non sono sotto i 15 sono sicuramente sotto i 20 questo poco ma sicuro come sempre se il video vi è piaciuto ragazzi mettete un bel pollicione in su iscrivetevi al canale e noi ci vediamo sicuramente con il prossimo video a presto a presto